Good evening, ladies and Chamberlain, ultimo appuntamento per ora con il Reaper React questa volta dopo averla torturata con Resident, dopo averla torturata con Poppy adesso Fai, la lascio andare un po' più tranquilla, la lascio fare qualche risata o meglio, o meglio, o meglio, cerco di non fargliene fare perché adesso entriamo proprio nella moda del momento in assoluto con le challenge, la challenge più challenge di tutte devo smettere di dire challenge e prova a non ridere, quindi cosa facciamo? Ho già perso Ci vuole così poco per farla ridere, figuratevi da qui in poi che cosa sarà proprio ve lo dico in anticipo e come se non bastasse, ci aggiungiamo anche una dose di pucciosità con i cani perché sarà un try not to life a tema cani e gatti quindi proprio preparatevi perché oggi la vedete sciogliersi adesso dopo che ti ho torturata al limite dell'impossibile tra Poppy, Will Hopper e Cazzi e Mazzi grazie adesso mettiamo la cosa un po' più serena ma anche un po' più competitiva perché adesso facciamo, prova a non ridere benissimo, io rido tutto il giorno quindi mi sa che perderò subito e in più con i cani no i doghi, i cagnolini esatto, con i doghi bravissimo, ho perso un bastardo death mi vuoi farlo guardi il video e vediamo cosa ne esce fuori bravo, vediamo, dai sono sicura che ce la farò c'è un pezzo c'è un pezzo cattivo oh oh è più carino questo e che cagnolino lo faccio? vabbè impazzito con tutta la casa ok cosa? come? no aspetta non riesci a salire oh ci è rimasto male che piccolo aiutate non riesci a salire e vabbè niente no aspetta dove vai? oh no si porta via tutta la carta Joey che cavolo no sei tormentata ho tormentato guardami no no che carino non ce la favo mai possibile possibile mh 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 che sai? mh mh non ce la faccio aiutatemi cosa? 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 mh 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 così a casa George no è un gatto no 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 oddio roba è tutta roba è tutta roba è tutta roba è tutta come Joey come Joey come Joey come Joey mh aj che fa? cosa? scusa che capelli ha? adesso giocata no no che carino musicista arrabbiato rotta la tastiera no 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 ma che verso fa? no oddio no 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 sei bloccato e vabbè e vabbè no è troppo piccolo non ci arriva ehm no come if you stop biting i'll give you a treat oh no uno squalo che carino ehi ehm beeh ehh cosa? acrobata hmm molto non c'è andi quanto no, niente Morek Dormì! Dormì! Si è addormentato, come sempre. Si! No! Ma! No, no! Scivola! No, che carini! Ehm... Faccia! Tipo, cosa succede? Sì! E rimane ancora... No! Ma che versi? Ehm... 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 No! Non riesci a prenderlo! Cosa? Non me l'ho accorta! No! Non lo sta mangiando! No! Non farlo! Non ci entri! Ehm... 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 Cosa? Come? No! Che piccolo! Ehm... 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 mi hai incastrato? che faccio? cosa? aspetta, mi hai messo? hai grappato? che carino ok, stop, let's have it che carino, vabbè, chiuso dentro cosa? cosa? che carino questo è carino, è solo graffia, no, no, è strano no, oddio, ecco qua, ecco lo sapevo cosa? vabbè, l'ho perso dall'inizio, quindi non è valido esatto, ti abbiamo perso praticamente subito ebbè, hai fatto un volo subito vabbè, almeno ci abbiamo provato ci ho provato, alcune erano carine ok, questo era il Try Not To Live, prova a non ridere pure adesso sta ridendo, quindi l'avevamo persa proprio subito ci abbiamo sperato, ma l'abbiamo persa persa completamente te l'avevo detto però ci ho voluto sperare, ma l'abbiamo persa immediatamente, quindi abbiamo finito per oggi non dimenticatevi di seguire di seguire Faya su tutti i social li metterò probabilmente in descrizione di tutti i video li metterò anche questo, ovviamente di seguire il canale, ovviamente e ancora più ovviamente un Ko-fi il Ko-fi è soprattutto il Patreon bisogno di biscotto esatto, il biscotto cosa ve ne fate dei Lutz quando c'è il biscotto eh, scusatemi biscotti over Lutz, scusatemi non dimenticatevi invece per aiutare me mettere mi piace, commentare, condividere ma soprattutto iscrivetevi, fate bene iscrivetevi iscrivetevi, fate bene I'm Jack Ripper e se non vi è piaciuta questa roba lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere